Dopo le agghiaccianti dichiarazioni di Silvio Berlusconi relativamente alla lotta al cancro che intenderà sconfiggere entro i prossimi tre anni, abbiamo da proporre alla sinistra italiana una campagna elettorale basata sugli stessi strumenti comunicativi. Suggeriamo alla sinistra italiana di sconfiggere la morte. In questo caso non ci sarà più problema di allevare nuove leve in quanto gli elettori comunisti e comunque moderati di centro-sinistra vivranno in eterno e quindi non avranno bisogno, non morendo, di dover insegnare e trasmettere i propri valori, i propri principi e l'etica ai propri figli. Quindi suggerisco al signor Bersani di proclamare subito nel prossimo triennio la lotta alla morte, la morte che dà veramente fastidio, ci fa male, all'improvviso ci impedisce di realizzare i nostri progetti. Quindi diamo questa buona e ne prendiamo questa buona iniziativa, votate la Bonino che sconfiggerà nei prossimi anni la morte. Grazie.